Per me sono stati molto interessanti tutti gli argomenti trattati oggi, non conoscevo questa manifestazione, ho trovato molto interessante quest'anno lo spunto rivolto ai tecnici, agli architetti, quindi la progettazione degli spazi. Lo consiglio, lo consiglio anche ai miei colleghi tecnici e architetti, non solo ai docenti. Mi capita spesso di partecipare a convegni, seminari, workshop, ma non mi capita molto spesso di esserne emotivamente coinvolto. Questo è stato il caso, uno di quei rari casi. Sono Valeria Rapa, Europe Program Coordinator per Avixa, l'associazione internazionale di riferimento per il settore audio-video. Partecipiamo al progetto EduTournée di connessioni sul rapporto tra la tecnologia e l'innovazione per l'ambito education. Grazie. 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 Grazie a tutti.